Il y a des endroits che vi appellano di essere belle de très loin e ne conosciamo pas la raison, ma abbiamo même que les accorgi e nous savons, en suivant le rappel, che nous recevrons un morceau de notre âme. Esistono luoghi che ci chiamano, magari anche da molto montagno. Non ne conosciamo la ragione, ma ancora prima di averli visti, sappiamo che, seguendo il loro richiamo, ritroveremo un pezzo della nostra âme. Grazie. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti